Allora ragazzi, ragazzi, allora, ho fatto un attacco, solo che non mi ha registrato, aspettate che guardo, ok ragazzi, mi registra il programma, cioè ho fatto un attacco veramente epico. Cioè, guardate, guardate questo, intanto prima vi faccio vedere la guerra, che l'abbiamo stracciata, cioè guardate, non mi hanno neanche dato il tempo di fare il secondo attacco, guardate, tutti tristellati, tutti tristellati, e solo 26, non li abbiamo neanche usati tutti. Cioè, non so ragazzi, intanto, guardate, ho abbastanza risorse, dai, perché? Perché mentre ho registrato ma ho fatto un fail, guardate, guardate quanto bottino, vi faccio vedere il replay. Guardate, allora, piazzo cos'è alla cavolo qua, a cavolo, e i draghi incominciano a spaccare tutto. Boom, 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 spaccano tutto. Intanto qua ho distrutto la difesa aerea. Ora rubiamo di tutto noi. Boom, ok. Ecco, qua è successa una situazione un po' critica, nel senso che mi sono morti quasi tutti i draghi, quindi qua riesco a buttarla giù, e quindi mi prendo tutto quest'oro. Però poi questa torre dello stregone fa fuori, no, anzi, sì, tutte e due, fa fuori il drago. Questo qui distrugge il cannone, e intanto la torre dello stregone lo sta per massacrare. Poi, fa il giro e distrugge la caserma, quando mancavano 30 secondi, questo prova a distrugge la torre e ce la fa, però non va a distruggere la torre dello stregone, quindi non ce l'abbiamo fatta, e poi finita. Però guardate quanto bottino, tutto l'elisir nero l'abbiamo preso. L'elisir ne abbiamo lasciato tanto lì, però comunque l'oro ne abbiamo solo lasciato 7000 perché c'era una miniera qua. Cioè, ragazzi, mica poca roba, eh? Cioè, è andato bene. Intanto, ragazzi, faccio vedere il mio clan, lo so che l'ho fatto vedere anche negli scorsi video, però ragazzi, entrate per favore, entrate, entrate. Io prima qua avevo 1800 coppe donate, solo che sono uscito, e quindi, ok, entrate perché i posti sono pochi, eh, però non per... Se volete entrare, scrivetemi sotto nei commenti, guarda, voglio proprio entrare, e io chiedo al capo, che ringrazio, grande Checco, chiedo al capo se appunto può... Cosa volevo dire? Si può, appunto, spellere qualcuno. E, allora, visto che i draghi ci impiegano tanto a farsi, noi cosa facciamo adesso? Facciamo 15, eh, no, aspetta, 15, no, vabbè, un po' di arcieri, poi vediamo se riesco a curarlo o non riesco a curarlo, malissimo. E facciamo un attacco, eh, un attacco muni, un attacco o due anche per le coppe. Perché, scusatemi, ma non ho avuto il tempo di, appunto, eh, eh, cosa voglio dire? Non ho avuto appunto il tempo di, che voglio dire? Eh, aspettate che mi sono impappinato. Non ho avuto il tempo, appunto, di fare le truppe, quindi facciamo un attacco così alla cavolo. Ci vediamo quando, ehm, appunto, ho finito, ho trovato qualcuno da attaccare. Allora, ragazzi, adesso cerco qualcuno, volevo solo provare una cosa, con voi. Ragazzi, volevo solo provare una cosa. Per stoppare, se posso stoppare direttamente dal gioco. Comunque, posso. Ehm, ci vediamo quando ho trovato qualcuno. Allora, ragazzi, ho trovato chi attaccare. Ok, aspettate. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Di solito ne metto meno, però. Ok. Facciamo una stella e guadagniamo un po' di coppe. E questa è la mia tecnica. Io, di solito, la faccio correre barbaro. Però, appunto, era a curare, quindi non ho potuto. Ehm, ok. Ok, dai, dai. Eccellente, facciamo fare. Tanto li stavano subito. Ecco. Neanche cinque secondi sono durati. Mamma mia. Boom. Devasto. Vabbè. Comunque. Termina la battaglia. E abbiamo guadagnato un po' di coppe. Magari, non so, ne... Mai. Ok. Mamma mia. Rubo, ok. No, vabbè. Comunque, comunque, comunque. I draghi si stanno facendo. 14 minuti, possiamo curarlo volendo, però. Aspettiamo. Intanto, non abbiamo fretta. Allora, con 1.254.606 unità di oro, non so, cosa potremmo farci. Allora, l'elisir cosa mi potrebbe servire? Sì, però, serve anche questa, o questo, chiedo al clan. Mi date, date un consiglio. Devo migliorare, migliorare, prima, il deposito nero, o truppe, livello 4. Vediamo cosa ci rispondono. Allora, intanto, raccogliamo le unità di elisir oro, elisir nero. Scusate un attimo, aspettate. Truppe, truppe, facciamo le truppe. Allora, diamo le truppe. Arcieri, faccio gli arcieri, va? Aspettate. Faccio cura. Vediamo cosa ci rispondono, eh. Intanto va... Arcieri, ok. Arcieri. Tac. 3 giorni ok vabbè io direi che per questo video può essere tutto e alla prossima ciao ciao